Un buon poveriggio, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la iniziativa Cammina nel Parco, perché consegneranno al Presidente della Repubblica una maglietta con le firme raccolte durante la quinta edizione di Cammina per il Parco per sensibilizzare il Capo dello Stato al tema dell'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina, il quiter è fermo in Consiglio dei Ministri. E' l'iniziativa questa di Marco Terrei e Andrea Natale, i due rappresentanti di WWF e Arci, ogni anno percorrono i 70 chilometri dell'istituenda Area Protetta per monitorarne lo Stato di Salute e il servizio di Alfredo Primante. Una maglietta di Cammina per il Parco, firmata da cittadini rappresentanti di associazioni, operatori economici e studiosi ed un dossier con i punti di forza e di debolezza dell'istituendo Parco Nazionale della Costa Teatina. Sono i doni che i protagonisti dell'annuale passeggiata lungo la costa di Trabocchi hanno preparato per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Andrea Natale e Marco Terrei chiederanno un incontro con il Capo dello Stato per spiegargli le ragioni a favore dell'istituzione dell'area protetta lungo il tratto più bello della costa abruzzese che attende di essere attivata dal 2001 e la cui perimetrazione giace in un cassetto del Consiglio dei Ministri. Visto che nulla si muove in questo senso, anche se l'iter procedurale ormai è giunto alla fine, non si capisce perché il parco non viene istituito. Per cui abbiamo deciso comunque di continuare a camminare ma di chiedere a questo punto a gran voce il nome del WWF e dell'Arce ma soprattutto di tutti i cittadini che vivono su questo tratto di costa di andare di persona dal Presidente e consegnargli questa maglia a testimonianza e a dimostrazione del fatto che il territorio chiede l'istituzione di questo parco. Vogliamo raccontare che cos'è questa iniziativa che voi fate dai 5 anni a questa parte? Percorriamo tutti i 70 chilometri della costa teatina e la costa frentana e facciamo in pratica un monitoraggio fotografico, video di quello che è la situazione sia dal punto di vista della biodiversità, degli habitat, delle specie problematiche che ci sono, sia dalla parte positiva, quelle che sono le opportunità, le buone pratiche che già esistono e che in pratica di fatto fanno sì che il parco già esista. Il marchio unico del parco, dicono i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, aiuterebbe sia nella promozione turistica del territorio che nell'attrazione di fondi europei e di risorse scientifiche. Secondo Luciano Di Tizio del WWF Abruzzo, i cittadini sono già molto più avanti della politica e delle istituzioni. Per esempio a Torino di Sangro ci sono dei balneatori che danno gratis l'ombrellone facendo pagare soltanto le sedie a zraio a tutti coloro che invece di andare in macchina si presentano il biglietto del bus. Quindi c'è una buona pratica per fare un esempio, ma ce ne sono tantissime altre. In tutta la costa dei Tre Bocchi molti operatori si stanno organizzando per far sì che sia una realtà questo parco. Se poi arrivasse davvero, finalmente avremmo un marchio di qualità che darebbe un grossissimo aiuto all'economia, oltre che proteggere il territorio, ma tutto sommato il territorio è già protetto dalle riserve. Il parco sarebbe un valore in più ed è veramente una follia non lottare per averlo in fretta. Il sindaco di Francavilla al mare, Antonio Luciani, risponde alle critiche mosse dal forum dell'acqua abruzzese sui nuovi fondi necessari al completamento del porto cittadino. Anche per noi, dice il primo cittadino, la bonifica dell'alento è una priorità, ma il porto non può non essere completato. Proseguono i lavori per il porticciolo qui di Francavilla al mare, però servono altri fondi. Perché? In verità questa cosa l'ho scritta su Facebook, è quasi una banalità, perché si sapeva dall'inizio che sarebbero corsi altri fondi per finire il porto, perché la gara d'appalto che noi abbiamo fatto grazie al finanziamento regionale di 2.250.000 euro prevede l'opera terminata con la predisposizione degli impianti, ma non con gli impianti stessi, con gli arredi, con la sistemazione a terra di una piazza importante e così via. Quindi questa è una cosa nota e risaputa. Ho semplicemente postato su Facebook come amo fare per parlare quotidianamente con i miei cittadini, dicendo che stiamo arrivando alla fase 2, quindi fra qualche mese, io penso non più di un mese da oggi, un mese, un mese e mezzo, la ditta avrà terminato l'appalto. Io l'ho messo come messaggio di gioia, positivo. Qualcuno ha subito preso la palla al balzo e ha detto che mancano altri soldi. Ma lo sapevamo dall'inizio, ci stiamo già adoperando per capire come completare l'opera e mi sono anche preso l'impegno pubblico di aprire il porto prima dell'estate 2018, cosa che era perfettamente nei miei programmi. Di quanti fondi necessita ancora il porto? Per portare l'opera completamente finita in ogni parte, quindi anche nella parte a terra, immagino che occorra una somma di poco superiore al milione di euro, un milione e due, un milione e tre, immagino. Per quanto riguarda il forum dell'acqua che poi ha fatto quell'intervento, diciamo critico, dicendo che i fondi servirebbero più per le bonifiche piuttosto che per il porto? Intanto io non conosco ad oggi un intervento che non sia critico dal forum dell'acqua e mi interrogherei su questo perché il mio amico Augusto De Santis fino ad ora non gli ho sentito fare un intervento positivo. Detto questo, i soldi per la bonifica ci sono, l'alento a 5 milioni nel masterplan, io sto scrivendo più volte al governatore della regione affinché sblocchi questi fondi, quindi io sono il primo a voler la bonifica. Andiamo a Pescara adesso perché il consigliere comunale di Forza Italia Vincenzo Dincecco ha denunciato nel corso di una conferenza stampa le carenze riguardo la segnaletica orizzontale in via del circuito. Paolo Renzetti. Siamo in via del circuito, una delle strade più trafficate di Pescara, consigliere Dincecco, una strada che ha delle problematiche soprattutto che riguardano la segnaletica orizzontale, ci sono anche dei residenti che si lamentano della mancanza delle strisce pedonali sull'asfalto. Praticamente via del circuito è priva di segnaletica orizzontale, in questa zona anche nella zona della Rodatoria, qui zona importantissima, molto trafficata, tante attività commerciali, c'è l'ospedale a poche centinaia di metri, praticamente la segnaletica orizzontale è scomparsa da anni, nel silenzio assoluto di un'amministrazione comunale che non si preoccupa di assicurare ai cittadini le condizioni minime di serenità e di tranquillità. Avete potuto vedere in questi istanti che siamo sedi qui, tanti cittadini, tanti anziani, che magari si regano al mercato e che hanno difficoltà a traversare in questa strada molto trafficata, ma questo chiaramente è un punto simbolo, ma è così per la stragrande maggioranza delle zone della città. C'è anche questa rotatoria qui di Piazza Pierangelo, una rotatoria pericolosa tra l'altro, con persone costrette ad attraversare in condizioni di pericolo. Nelle zone di passaggio, in quelle che erano le zone dove era possibile attraversare, all'inizio di via circuito, qui e anche nell'area che va verso l'ospedale, non ci sono punti di attraversamento, quindi le persone che devono comunque andare sull'altro tratto di via circuito o devono andare verso l'ospedale hanno una grandissima difficoltà da attraversare e l'asfalto è stato fatto recentemente, non si è visto assolutamente il comune nel rifacimento della segnaletica. Questo è un problema serio in questa zona, che è una zona simbolo per la grossa presenza di pedoni e di auto, però è un problema della città. Io ricevo continuamente segnalazioni da tutte le zone della città. L'ultima ieri in via Bassani, che è una via in questo momento molto frequentata, della via adiacente alla stazione, dove non sono neanche visibili le strisce che delimitano la carreggiata, è un pericolo veramente serio per i pedoni, ma in alcuni casi anche per gli automobilisti. Sempre a Pescara, taglio del nastro per il palco dell'infanzia di Via Tavo, nel quartiere Arrancitelli, un'area verde dalla storia tormentata per il quale si era speso anche il prete antimafia Don Luigi Ciotti, un simbolo di rinascita per un quartiere difficile, dice l'amministrazione comunale. Quando si inaugura un pacco è sempre una cosa molto positiva. Lo facciamo in una zona delicata di Pescara, dove i problemi sono tanti, e sicuramente non basta un'amministrazione a risolverli tutti. Se guardo davanti a noi, vedo gli scheletri dei palazzi clerico, che meriterebbero molta più attenzione. Però voglio anche dire di quello che è stato fatto, che il Ponte Flaiano è un ponte che serve a collegare Via Terno con l'altra parte della città, è un ponte che cade proprio in questa zona. Voglio dire che qualche giorno fa è stata pubblicata la nuova gara del contratto di quartiere, che sono le palazzine abbandonate da tantissimi anni che sono in Via Trinio. Saranno 64 nuovi appartamenti per le famiglie di Pescara, principalmente per quelle di Via Lago di Borgiano che stiamo seguendo, e sono palazzine che nasceranno proprio qui dietro. Il parco nelle immediate vicinanze è stato riqualificato quest'estate, adesso riprende vigore anche questo parco. Se guardo davanti a me, in questo momento vedo lo sfondamento della strada Pendolo, che è stato finanziato con i fondi delle periferie, 18 milioni di euro, una cosa molto molto attesa per Pescara e molto attesa anche in questa zona. Io credo che noi stiamo facendo tantissime piccole cose per rimettere a posto una situazione molto delicata, qual è quella di questo quartiere. È una situazione che non ci sfugge, è una situazione che ce l'ha ricordata anche Don Massimiliano, benedicendo le persone che sono intervenute, ci serve l'aiuto di tutti. Oggi inauguriamo e quindi festeggiamo un lavoro dell'amministrazione, da adesso comincia il lavoro di tutti i residenti che devono fare in modo che questo parco possa vivere. Andiamo a Teramo adesso perché l'Ads, l'azienda per il diritto allo studio, lancia un programma sperimentale di mobilità sostenibile per studenti e lavoratori. Chi raggiungerà la scuola o il posto di lavoro in bicicletta riceverà un rimborso per ogni chilometro fatto. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Ottimo piazzamento a livello nazionale del progetto di mobilità sostenibile presentato dall'Azù di Teramo, dal titolo Muvete, quindicesimo su 114 programmi sperimentali proposti al Ministero dell'Ambiente. Muvete interessa 10 comuni del Teramano e se finanziato si estenderà dagli studenti universitari anche ai lavoratori che avranno un rimborso per ogni chilometro fatto in bicicletta per raggiungere la scuola o il posto di lavoro. L'Azù si occupa di politiche a vantaggio degli studenti. Ci sono bandi competitivi che intercettano risorse che noi abbiamo pensato di destinare agli studenti. Queste risorse noi le immaginiamo di impiegarle negli alloggi. Abbiamo in ballo già un progetto molto ambizioso che è quello del recupero della casa dello studente di Viale Crucioli e questo sulla mobilità sostenibile che abbiamo già finanziato con un progetto sperimentale l'anno scorso si chiama Bike to Study e è rivolto solo agli studenti dell'Università di Teramo. Questo ulteriore progetto Muvete invece estende il bacino d'utenza ai lavoratori e a studenti anche delle scuole superiori per garantirne gli spostamenti casa lavoro e casa scuola. Un progetto sperimentale, quello dell'Azù di Teramo, con ottime possibilità di essere finanziato dal Ministero dell'Ambiente è molto apprezzato da alcuni comuni delle Marche che vorrebbero attuarlo anche sui loro territori. Casa scuola, casa lavoro, come ci si va? Abbiamo utilizzato quella piccola sperimentazione che abbiamo inaugurato qualche mese fa con Bike to Study, con gli studenti universitari e l'ipotesi è stata esplosa con tutta la provincia di Teramo. Stiamo parlando di 183 mila abitanti coinvolti, è la famosa T, quindi è la costa più la valla del Tordino e il Teramo capoluogo. L'obiettivo principale è quello di incentivare la mobilità su bicicletta, mobilità sostenibile per andare a lavorare e per andare a studiare, con un incentivo di 25 centesimi al chilometro per chi utilizzerà questa tecnologia. Torniamo a Pescara adesso perché novità di questa edizione 2017 di Nonno Ascoltami, il track multimediale aperto anche ai più giovani. In questo weekend, dunque, torna a Piazza Salotto l'appuntamento con la prevenzione dei disturbi deludito, con visite gratuite effettuate da medici specialisti in ottorinolari in goiatria. Vediamo. Torna in Piazza Salotto a Pescara l'iniziativa Nonno Ascoltami con questo track che abbiamo alle spalle. Sì, questa è la novità di quest'anno, questa è l'ottava edizione, copriamo 15 regioni in 36 piazze d'Italia. Abbiamo veramente raggiunto un numero di abitanti coinvolti in Italia enorme, sono oltre 10 milioni i cittadini coinvolti a questa massiccia campagna di prevenzione patrocinata dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E la novità di quest'anno è proprio indirizzata ai più piccoli. Nonno Ascoltami era una campagna dedicata soprattutto agli adulti con il track che abbiamo qui dietro. Ascolta responsabilmente un'esperienza multimediale, un viaggio all'interno del mondo deludito. Stamattina abbiamo avuto qui tante scolaresche che hanno potuto scoprire i segreti di questo senso troppo spesso trascurato, nessuno ne parla. Ecco perché era importante cominciare a fare prevenzione fin dai più piccoli, perché quella è la vera prevenzione che significa educazione sanitaria. Lo diciamo ogni anno, lo ripetiamo anche quest'anno, non si tratta soltanto di un problema che può essere lontano nel tempo bisogna essere sempre attenti. Sì, bisogna essere molto attenti perché l'udito è un bene purtroppo spesso trascurato perché banalmente non fa male, non porta dolore, quindi è sempre l'ultima delle urgenze ci sono sempre altri motivi per trascurarlo. Ecco perché abbiamo l'opportunità, grazie all'ospedale di Pescara, qui a Pescara, all'ospedale di Chieti anche a Chieti domani, di fare controlli gratuiti dell'udito e fare una visita specialistica con il medico specialista Eutorino e non solo Pescara e Chieti ma come già detto in tutte le piazze d'Italia. Domani nella sede di Casa Artigiani a Giulianova si terrà una riunione regionale dei toelettatori da animali da compagnia una categoria di artigiani in forte ascesa che annovera in Abruzzo circa 90 imprese. Si tratta di un settore che sta lottando per ottenere un riconoscimento legislativo della propria professionalità. Casa Artigiani a Abruzzo organizza domenica 1 ottobre a Giulianova un incontro con i toelettatori degli animali da compagnia. Lo scopo è quello di sostenere e valorizzare una categoria che annovera sul territorio regionale 90 imprese. Si tratta di un settore che sta lottando per ottenere un riconoscimento legislativo della propria professionalità che ogni giorno si esprime a favore degli animali domestici. Casa Artigiani si schiera al fianco di questi operatori poiché ritiene che la toelettatura sia un'arte artigiana che vada difesa e valorizzata. Per questo motivo si chiede di porre un freno all'apertura selvaggia di centri di toelettatura obbligando i futuri toelettatori a corsi professionali specifici che garantiscano e attestino competenza e capacità di chi gestisce gli animali. A oggi, in assenza di quadri normativi, chiunque a prescindere dalla propria formazione professionale può aprire un'attività di toelettatura arrecando, secondo la categoria, gravi danni al settore. Alla riunione interverranno il dirigente nazionale Casa Artigiani Paolo Melfa e la referente di categoria per l'Abruzzo Mariolina Serafini. I lavori saranno introdotti dal saluto dei coordinatori regionali Casa Artigiani, Dario Buccella e Flaviano Montebello. Presentata nella sala Ternum del Comune di Pescara la seconda parte del progetto Solidarietà Fa Sport ideato dall'assessorato alle politiche sociali per sensibilizzare i giovani alle disabilità di tipo fisico, psichico, sensoriale, intellettivo e razionale. Vediamo. Assessore Allegrino, seconda parte di questo importante progetto Solidarietà Si Fa Sport ci sarà una mappatura delle barriere architettoniche nella città di Pescara e questa mappatura sarà fatta proprio dai ragazzi. Sì, abbiamo voluto dedicare la seconda fase del progetto Solidarietà Fa Sport proprio ad un'attività di coinvolgimento degli stessi studenti che hanno partecipato alla prima fase in cui noi siamo andati nelle classi, nelle scuole insieme a 20 associazioni che si occupano di disabilità e abbiamo iniziato la sensibilizzazione dei ragazzi. Adesso chiediamo che siano i ragazzi insieme alla scuola ad andare nei dintorni del proprio ambito scolastico per andare ad esaminare quali sono le barriere architettoniche, le barriere comportamentali perché anche questo è un tema importante e per poi trarre le conclusioni che potranno essere utili anche all'amministrazione comunale ma saranno utili soprattutto alla crescita dei ragazzi stessi in forma di sensibilizzazione e coinvolgimento e alla sensibilizzazione dei cittadini. Non a caso questa seconda fase del progetto si svolgerà tra il primo di ottobre e il 3 dicembre che sono due giornate importanti. La prima è la giornata nazionale sulle barriere architettoniche e l'ultima, il 3 dicembre, è la giornata internazionale per le persone con disabilità e questo abbiamo voluto farlo proprio in termini di questo periodo, l'abbiamo voluto attraversarlo proprio in termini di sensibilizzazione perché la formazione delle giovani generazioni è quella che poi aiuta anche il mondo degli adulti ad aprire gli occhi su determinate difficoltà. Adesso apriamo la pagina di sport. Tra poco in campo il Pescara al Cabassi di Carpi per una trasferta complicata. Andiamo a vedere la formazione del Pescara che è ufficiale. Ovviamente 4-3-3 per i bianco-azzurri di Zdenek, Zeman, Pigliacelli tra i pali. In difesa Balzano a destra, Mazzotta a sinistra, Bovo e Coda sono i centrali di difesa. A centrocampo c'è Brugman con Canutè e Coulibaly, ovviamente sarà Brugman il playmaker, davanti Pettinari del Sole e Capone. Vi faccio vedere anche la formazione ufficiale del Carpi che è un 4-4-1-1 con Colombi tra i pali, Sabbione, Ligi, Poli e Jelenic in difesa. Raiek, Pasciuti, Giorico e Saric a centrocampo e Concas alle spalle di Gerry Mbakogu che dunque è recuperato e sarà in campo dal primo minuto. Noi ovviamente seguiremo nel corso del pomeriggio con Diretta Stadio che inizia tra pochissimo l'evolversi della partita del Cabassi dove scende in campo appunto il Delfino. Scendiamo in Serie C adesso perché domani per il Teramo sfida complicata interna contro la fermana del grande ex Marco Sanzovini. Questa mattina in conferenza stampa dopo la seduta di rifinitura per Antonino Asta, tecnico dei Biancorossi che non prevede cambi di formazione e risponde a qualche dichiarazione dell'omologo Flavio Destro. Vediamo. In questo momento qui incomincio a capire più che mai la rosso che ha a disposizione quindi vado avanti per quello che è la squadra. Poi che possa giocare uno, l'altro e tutto fanno parte del Teramo quindi non può essere una novità se dovesse giocare uno e l'altro. È vero, veniamo da delle partite quasi che hanno giocato gli stessi e allora può esserci un po' di cambio o qualcosa. Ma diciamo che ci aspettano tre partite, una incomincia domani quindi domani non lo so ma potenzialmente cambierò perché tre gare in una settimana dovrò farli oggettivamente. Però domani vedremo un paio di situazioni ma non sono quelle imminenti nel mio pensiero di domani. Io voglio anche replicare a quello che ha detto Destro. il Teramo è fatto per la classifica alta ma io dico a voi come tifosi la nostra classifica è questa ma ci metto la firma se all'ultima giornata arriviamo a questa non voglio più parlare di questo che dopo ognuno può dire la sua noi dobbiamo salvarci all'ultima giornata non attraverso i play-out. Io credo che una volta per tutta non fate di più questa domanda perché è tale, non perché il Teramo è stata, lo era. Quest'anno una squadra del genere per tanti motivi lo sapete anche voi questa nostra classifica è ci mettere la firma. No, no, sì, noi siamo sereni. perché quella è la nostra classifica è questa e sarà poi quello che verrà di più bene. Io ho fatto subito i complimenti ai tifosi sia Correvenna ma anche quelli che erano venuti a Pordenone perché comunque erano in tanti per me sono sempre in tanti si fanno non so quanti chilometri hanno incitato la squadra dall'inizio alla fine e sento un po' i rumor su quello che può essere un po' la situazione che la gente c'è molto vicina e questo mi fa molto piacere perché è una squadra giovanissima una nostra ha bisogno dell'apporto ma non che quando ci saranno le critiche non ci siano le critiche attenzione qui nessuno ha il vedo dire no no, quello è normale guai, io sono il primo però so che in questo momento i tifosi ci possono dare una mano in casa che deve essere deve diventare un ambiente importante per noi vuoi per tanti motivi vuoi perché è un sintetico lo conosciamo meglio vuoi per l'ambiente e questo sì, mi aspetto spero come i giocatori che si aspettano la porto da parte di tutta la gente tempi di recupero di Amadio non lo so non lo so è di verità adesso vediamo forse del settimana prossima piano piano di nuovo rincomincerà si vede veramente ritornando ai discorsi prima questa serenità loro di giocare anche a Biato Sistema di gioco nelle ultime gare prima 4-3-3 adesso il 4-2-3-1 alle volte un po' mascherato con un esterno più difensivista e l'altro più offensivo ma in questo momento è chi gioca che gli dà serenità perché stanno facendo abbastanza bene poi è vero che le partite sono sempre strane perché col mestre 1-0 io ho visto la partita il mestre ha fatto benissimo a Sant'Arcangelo 5-1 ma fino al 2-1 hanno avuto l'occasione di parigiare a Sant'Arcangelo un giocatore in meno in Serie D invece domani la quinta giornata di campionato del Girone F due le panchine in pericolo quella di Giampaolo D'Avelzano che al De Mars ospita il fanalino di coda Nero Stellati nell'unico derby della giornata e quella di Daniele Amaolo a Pineto l'Aquila giocherà in casa contro l'Agnonese ma si moltiplicano le incognite a livello societario Andrea Costantini quinta giornata di campionato con un solo derby nel Girone F di Serie D si affrontano le squadre più in difficoltà da una parte l'Avezzano partito con grandi propositi ma a dispetto dei grandi nomi ancora a secco di vittorie dall'altra la matricola Nero Stellati a secco addirittura di punti la stagione chiama già le due squadre ad una svolta la compagine di Di Marzio ha dato segnali incoraggianti col campo basso quella marsicana ha l'obbligo dei tre punti altrimenti la posizione di Giampaolo rischia di essere definitivamente compromessa ma io penso che il momento diciamo critico è passato perché la squadra sta molto meglio a livello fisico ormai è da un mese che lavoriamo con grande intensità per cui abbiamo risolto questo gap che c'era sulla condizione fisica sarà una partita intensa sicuramente dobbiamo prepararla bene la stiamo preparando bene sappiamo che è una squadra che corre tantissimo per cui dobbiamo stare attenti però ci stiamo preparando per affrontarla nel migliore dei modi altra panchina già pericolante è quella di Daniele Amaolo a Pineto pesano tre sconfitte su quattro partite soprattutto l'ultima rocambolesca contro il San Nicolo per il tecnico di Porto San Giorgio la prova d'appello è durissima perché domani al Mariani Pavone arriverà la Vispesaro capolista a punteggio pieno del girone in caso di brutta prestazione praticamente scontato l'esonero all'Aquila invece di questi giorni si fa grande fatica a parlare di calcio giocato la situazione societaria è clamorosamente complessa e da giorni lo spettro del fallimento Aleggia con la difficoltà di trovare un punto d'incontro tra la cordata entrante e i vecchi soci si rischia tra un mese che la spina venga definitivamente staccata se non ci saranno concrete azioni intanto la squadra si barca mene in questo contesto e domani ospiterà l'Agnonese secondo impegno consecutivo Molinsano per il Francavilla che domani se la vedrà con il Campobasso secondo in classifica giallorossi ancora senza Fofanà ma che proveranno a esibirsi di nuovo con la versione da trasferta finora implacabile l'undici di Iervese lontano dal Valle Anzuc sete di riscatto per la Vastese che dopo il K.O. con la Matelica ha un secondo test interno consecutivo con la Iesina il San Nicolò sarà di scena a Castelfidardo per cercare il Tris di Vittorie e questo era il nostro ultimo servizio la prima edizione del TG6 termina qui avevo tra poco l'inizio di Diretta Stadio per seguire insieme la trasferta del Pescara Carpi il TG6 torna alle ore 19 con la seconda edizione buon pomeriggio il TG6 termina Grazie a tutti.